gentili telespettatori buona giornata enrico letta dice che salvini non vuole la riforma della giustizia e butta la palla in calcio d'angolo così dichiara enrico letta leader dei dem quelli che si definiscono democratici e tutti gli altri chissà che cosa sono conte vuole staccare la spina dice no sono è solo gossip infatti girava voce in questi giorni che conte voleva andare ad elezioni e molti grillini hanno risposto a conte che ci vada da solo alle elezioni perché perché andare alle elezioni significa che i grillini perdono il posto di lavoro il 30 per cento di loro cioè circa 100 politici sono al secondo mandato pertanto con con una fine del governo anticipato avrebbero perso il loro stipendio disoccupati dalla politica pertanto rispondono a conte alle elezioni ci vai da solo e poi letta dice incontrare salvini sulla giustizia io incontro tutti ma vedo che salvini ha un'altra agenda su questo punto pensa che il referendum sia meglio dice la mia impressione è che lo fa perché non vuole affrontare questo tema oggi non vuole fare la riforma con noi e con il referendum e butta la palla in calcio d'angolo noi siamo per farla subito dice enrico letta a rai news 24 ma anche salvini è d'accordo nel fare subito la riforma della giustizia ma come faranno a mettersi d'accordo a mettersi d'accordo salvini eletta e gli altri partiti su una riforma così spinosa che vede proprio salvini interessato a questa riforma in modo particolare rispetto agli altri e poi sottolinea il capo del pd abbiamo un'occasione unica e straordinaria per fare la riforma della giustizia ho molta fiducia nel ministro cartabia e in draghi cartabia passerà alla storia come il ministro che avrà superato la contrapposizione politica decennale decennale sulla giustizia potrebbe anche essere vero se la se il ministro cartabia propone una riforma della giustizia che va bene anche a salvini il referendum rimane marginale rimane una cosa che poi non serve più si può anche sospendere se realmente la cartabia propone una riforma della giustizia super partes letta poi aggiunge che non è tempo di azioni ordinarie usciamo dalla pandemia sconvolti in tutti gli ambiti economici eccetera eccetera al governo ogni giorno è una fatica perché è una maggioranza molto larga e composita ma sono molto contento di quanto accaduto in questi tre mesi ora ci sono molte scelte complesse sul dopo pandemia e non è l'ordinarietà che ci porterà a vincere 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 parla solo di elezioni letta tutto il suo discorso i suoi discorsi sono improntati alle prossime elezioni politiche se vedete a lui non interessa molto realmente dei temi attuali degli italiani in fondo lui lo stipendio lo continua a prendere è anche abbastanza sostenuto che gli importa degli italiani lui interessa il suo partito le elezioni politiche e alla domanda se giuseppe conte vuole staccare la spina al governo draghi dice che in questi due mesi da quando sono tornato vedo che il gossip è diventato una mania uno sport nazionale e poi aggiunge meglio non andare dietro a questi gopsi e pettegolezzi io so che conte sta facendo un ottimo lavoro coi 5 stelle lo dimestra anche l'ottima soluzione per napoli sulla sua proposta della dota i diciottenni letta spiega che è un simbolo è un simbolo un simbolo elettorale è un modo per dire ai ragazzi che si sono sacrificati per salvare gli anziani che il paese tutto ne è consapevole li vuole risarcire e dare un'opportunità per diventare indipendenti o con un'attività professionale o con lo studio maletta ma chi vuoi prendere in giro gli italiani vogliono ringraziare i diciottenni non si sape esattamente perché cosa perché sono stati a casa a fare le lezioni da casa col computer allora letta li vuole ringraziare per aver fatto la didattica a distanza con 10 mila euro a testa o non sarà mica perché con la nuova legge che si va a delineare adesso anche i diciottenni diciannovenni ventenni ventunenni eccetera eccetera potranno votare al senato della repubblica e sono circa 4 milioni di voti che dite sarà una mossa elettorale o letta vuole bene ai diciottenni perché sono stati a casa durante la pandemia fare le classi col computer voi che dite è una mossa per il voto dei diciottenni o perché sono stati a casa col computer io credo che è una mossa elettorale ma questo l'hanno capito anche i soprammobili che ho dietro di qua quanto al blocco dei licenziamenti non siamo per un'uscita graduale selettiva ci sono settori per cui il blocco dei licenziamenti non ha più senso come l'edilizia il blocco dei licenziamenti se ha senso ha senso per tutti non è che ha senso per alcuni settori cosa vuol dire che se se l'edilizia va bene allora non licenze togliamo il blocco dei licenziamenti perché il blocco dei licenziamenti comporta anche il blocco delle delle assunzioni no pertanto perché sbloccare i licenziamenti sulle costruzioni e sugli altri no quando li sblocchi li sblocchi per tutti perché se se tu togli il blocco dei licenziamenti nel settore dell'edilizia qualcuno evidentemente perderà il posto di lavoro su questo non ci pione pertanto o blocchi tutto o non blocchi niente non è che blocchi a settore all'edilizia va bene allora togliamo il blocco dei licenziamenti che c'entra se va bene cosa c'entra il blocco dei licenziamenti va bene questa è l'idea diletta mentre per i servizi o il tessile dice non è così quindi è giusto andare a individuare i settori più in difficoltà ed aiutarli ma con il blocco dei licenziamenti non è che aiuti i settori in difficoltà il blocco dei licenziamenti serve solo a prendere tempo sperando che le aziende non debbano più licenziare in quanto il fatturato ha ricominciato a crescere hanno trovato nuovi clienti però è un anestetizzare un'azienda con i soldi dello stato ti pago aspetta aspetta non licenziare che ti do i soldi io aspetta 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 ma questo aspetta 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 quanto può andare avanti mi sembra che va avanti già da troppo tempo e poi sul colle dice mi sono dato una regolata mi sono dato una regolata dal Quirinale si comincia a parlare il giorno dopo il panettone dice Letta mi sono dato una regolata se lui dice mi sono dato una regolata vuol dire che stava pensando solo al Quirinale ecco caro amico Letta le parole sono importanti prima di dire delle cose pensaci se no ci fai delle figuracce come puoi dire mi sono dato una regolata sul Quirinale ci penserò dopo il panettone ma va la va la Enrico vi ricordate il drive-in che c'era Enrico Beruschi e la moglie gli faceva Enrico Enrico Beruschi ve lo ricordate? è il drive-in vabbè tempi passati tempi moderni vita vissuta io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata